Visto che a mezzogiorno devo essere in tribunale per la custodia di mio figlio nella rovinosa battaglia contro la mia orrenda ex 10.001, 10.002, l'edificio non agibile è tuo! No, abbiamo perso! Ho parlato con la mia mamma e ha detto che per lei va bene se stasera vogliamo dormire qui al castello. Sì, anche per me va bene. Si può fare. Faccio un salto a casa a prendere il mio cuscino. Voglio disdire la mia assicurazione. Ho questo negozio da 40 anni e non si è mai rotta una sola lampada. Si ha sentito bene. Disdico la polizza vita di mio marito. È in perfetta salute da 40 anni. Venderemo il negozio di lampade e gireremo il mondo. Bene, passiamo al piano B. Scagliamo frecce infuocata e come faceva Robin Hood. Cioè bisogna mirare a una finestra aperta oppure vanno scagliate contro le mura? Non ho visto il film, solo un video con Brian Adams. Che metteranno al posto suo? Un supermercato. Ah, quanto mi piacerebbe un supermercato. Qui dice che se non ci arrestano nei prossimi sei mesi cadranno le accuse di incendio doloso e lesioni personali. Ehi, scusate ancora ragazzi. Dai, che vuoi che asciera? Sì, nessun rancore amici. Ora devo pensare al mio incontro sexy di stasera. Sì, sì, certo, incontro sexy con la mano destra o con la sinistra? Ciao, sei tu morto? Beh, sì, sono io. Ma che diavolo succede? Ora anche morto scopa? Sì, grazie a Tinder adesso esce tutte le sere con una donna diversa. È un'applicazione per il cellulare con la quale due sconosciuti si incontrano e fanno porcherie erotiche. Tipo prostitute? No, sono solo due arrapati col cellulare. Aspetta, non capisco. La colpisci in testa col telefono e la fai svenire? No, tocchi la foto di qualcuno, vi incontrate e scopate. Wow! Non vedo l'ora di iniziare a trombare al tocco di un pulsante. Beh, prima devi creare il tuo profilo. Oh sì, è già pronto. Ho scritto lunghi paragrafi in cui descrivo i miei interessi, le perversioni, i miei vini preferiti, due citazioni stimolanti, cose che ho imparato dai miei gatti. No, 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 ho sbagliato. Devi farti un selfie completamente nudo con l'uccello coperto da bigliettoni da 100 dollari. Ehi, guarda, hai già un contatto e ricevi un messaggio. Mandale solo un cetriolo e un vulcano in eruzione. Ciao, sei tu Courtney di Tinder? Tu devi essere Glenn. Ti ho preso questo, un bellissimo bouquet per una bellissima... Già, togliti i pantaloni e sediti in salotto. Ok. È stato grande e c'è ancora tempo per conversare. Cosa? Perché? Abbiamo già fatto sesso. Aspetta, vuoi dire che non devo intrattenermi con te e mettere mano al portafogli? Certo che no. Tieni, asciugati con questo catalogo di mobili. Dov'è Quagmire? Fra 20 minuti si comincia. Non lo so, quello non si è fatto più vedere da quando ha scoperto Tinder. Dai, andiamo, è l'ora del golf. Ho già messo un'opera il golf. C'è odore di selvatico qui dentro. Scorri sì per Betsy, scorri sì per Jennifer, scorri sì per Andrea, scorri sì per tutte le donne. Facciamo, facciamo entrare un po' di luce, d'accordo? No, no, il sole no! Il mio Tinder brucia! Stando accovacciato così gli sbuca fuori un testicolo. Non possiamo vederti così. Io non ho amici, solo contatti sul telefono per fare sesso. Devi smetterla, avanti, sono settimane che non esci da questa camera. Non mi serve uscire, vengono tutte da me. A volte mi portano anche un hamburger al formaggio. Sei tu, Glenn, a due chilometri da casa tua. Posso togliermi l'occhio di vetro se vuoi provare una cosa un po' diversa. Andiamo a farlo in garage. Fa un po' freddo, ma possiamo farlo. Maglietta sì, mutande no. Ha dimenticato il telefono. Adesso lo spingo col ginocchio dentro il cartone vuoto della pizza e mi resta appiccicato. Meglio andare a questo punto. Scorri, scorri, scorri! Non c'è nessuna compatibile! Quagmire, dobbiamo parlare. Questa storia ti è sfuggita di mano. Devi cancellarti da Tinder. Ma certo, il mondo reale è pieno di belle donne da conoscere alla vecchia maniera. Toglietevelo dalla testa! Non voglio lasciare Tinder! Ragazzi, sono stato dal dottore. Ho veramente un bambino nel culo. Dammene un altro, Jerome. Non ti pare di averne bevuti troppi? Dammene un altro! Signore, va tutto bene? Sto bene, sto benissimo. Oh, ehi, sei su Tinder? Cosa? Quell'orrenda app per appuntamenti? No, senta, non sto cercando di rimorchiarla. È solo che mi sembra molto turbato e... Giggidi! Che cosa ha detto? Io, io non lo so, credo di aver detto Giggidi. Io sono ancora un artista. Come, scusi? Dicevo solo che è vero, sono turbato, molto turbato. Come pensavo, vuole confidarsi con me? Sì, certo. Oggi ho sepolto mio fratello gemello. Eravamo molto uniti. Ognuno di noi finiva sempre... Sai, ho come l'impressione che il mio pene stasera non dovrebbe stare solo. È bastato solo ingaggiare per 200 dollari quella lunica prostituta per chi si fingesse una dolce e ingenua ragazza. Ciao, sono la prostituta ingaggiata per sedurre il vostro amico. Oh, che cacchio, non ci servi più, è morto. Forse però possiamo organizzare una cosetta diversa. Ehi, posso fare un tiro anch'io, ragazzi? No, tu fai il portiere e basta.